Già prima delle feste natalizie abbiamo visto aumentare il numero delle classi in didattica a distanza per i multifocolai di contagio che si sono accesi nelle scuole, coinvolgendo anche docenti e personale ATA. Se andiamo avanti così a metà gennaio corriamo rischi concreti perché nonostante i nostri continui appelli e gli allarmi che ci arrivano dal mondo scolastico, le misure finora adottate sono state confuse e insufficienti. A dirlo è il presidente di Anci Campania e sindaco di Caserta Carlo Marino. La situazione dei contagi sta peggiorando, lo dicono i numeri sempre più allarmanti. Abbiamo chiesto come sindaci di applicare il Green Pass semplice fin dalle elementari perché questo avrebbe incentivato le vaccinazioni dei bimbi e dei ragazzi. Ci sono state fornite dal governo risposte attendiste e frammentarie che hanno alimentato ulteriore confusione. Il mondo della scuola è in grave difficoltà nonostante l'impegno streno dei docenti e dei collaboratori scolastici. Se si riapre con queste regole rischia un'altra impennata di contagi e un caporetto del piano vaccinale. Chiediamo al presidente della regione Campania, prosegue Marino, di far sentire al governo nazionale e al CTS la voce dei sindaci della Campania per evitare che tutto si scarichi, come sempre, sulle amministrazioni locali e sugli operatori scolastici. Per questo, come sindaci di Anci Campania, suggeriamo, raccogliendo l'appello di numerosi presidi e dei sindacati della scuola, uno slittamento delle attività didattiche in modo da affrontare con la massima serenità questa quarta ondata e attendere che vengano rimodulate le regole da applicare nei casi di contagio nelle classi e i protocolli della didattica a distanza. Senza una pausa didattica per garantire la sicurezza di studenti, docenti e personale ATA e senza interventi specifici, conclude Marino, le scuole della Campania non potranno che trovarsi di fronte ad un aumento incontrollato dei contagi e un totale caos organizzativo.